Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia, oggi torniamo a parlare del comune di Palermo con la penultima delle puntate di Talk Sicilia dedicate alla conoscenza della giunta comunale e delle idee che ci sono per la Palermo del futuro, abbiamo titolato questa serie di trasmissioni Palermo verso il suo futuro, oggi parliamo di attività produttive, lo facciamo con l'assessore al settore Giuliano Forzinetti che ringraziamo di essere qui con noi, è veramente bello essere riusciti finalmente ad avere Forzinetti qui, lo abbiamo inseguito per un po' di settimane e quindi adesso glielo diciamo anche perché noi siamo un po' vendicativi, ma scherzi a parte con me come sempre in questi casi c'è il collega che si occupa di seguire il comune di Palermo Pietro Minardi, Pietro grazie per essere qui con noi, buonasera direttore buonasera a tutti e quindi cominciamo proprio a parlare di attività produttive, scherzi a parte giocando un pochettino con l'assessore anche prima della trasmissione li abbiamo accennato a quelle che sono le nostre idee per il futuro di Palermo che poi sono non sempre coincidenti con quelle del comune di Palermo, ma questo è nell'ordine delle cose, lo scopo di una trasmissione come questa è quella di ampliare un dibattito per cercare di migliorare ciò che è migliorabile e su questo sono convinto che tutta la giunta sia assolutamente d'accordo con noi che il dibattito è fondamentale per costruire qualcosa di futuro. E allora cominciamoci da qua, io vado in generale, all'attacco in generale, poi le domande particolari, entra Pietro per entrare nel dettaglio, qual è la visione che ha l'assessore Forzinetti e quindi il comune di Palermo, perché qui rappresenta il comune di Palermo per lo sviluppo delle attività produttive della città che diciamo sono spesso in ginocchio? Il primo punto sicuramente è una normalizzazione dei procedimenti e dei processi e quindi parlando di imprese di attività produttiva parlo di sburocratizzare il sistema. Oggi più che mai dopo la congiuntura economica e nazionale che è in atto tuttora, le imprese non possono più aspettare i tempi della burocrazia e quindi su questo sin dall'inizio ci siamo impegnati e già ci sono tantissimi procedimenti che abbiamo semplificato all'interno del mio assessorato, penso ai trasloghi, penso all'occupazione sullo pubblico, penso alle insegne, penso ai ponteggi, a tutti quei provvedimenti che comunque erano in atto, erano bloccati all'interno dell'assessorato perché oggi diciamoci chiaramente il comune di Palermo ma un po' è un problema diffuso a livello nazionale versa in una crisi funzionale fondamentale che a mio avviso è anche più... Cioè manca la gente per fare le cose diciamocelo in una sostanza perché la crisi funzionale lo capiamo noi ma chi ci segue spieghiamo, non ci sono le persone per fare i lavori che occorre fare a partire dallo sportello e a continuare tutto il resto. Esatto, abbiamo una carenza di dirigenti e di funzionari soprattutto amministrativi importantissimi e quindi pensare di riuscire a governare un comune, un assessorato dico come questo con una carenza così importante è davvero un'impresa difficile quindi per questo dobbiamo snellire al massimo i procedimenti, farci aiutare chiaramente dai privati, dalle imprese, dall'associazione di categorie corpi intermedi con cui c'è un dialogo serrato e quindi sburocratizzare al massimo. Quindi soltanto così possiamo andare incontro alle esigenze delle attività, è impensabile avere da noi alcuni provvedimenti fermi da anni, da due o tre anni perché è chiaro che non siamo attrattivi né per chi già è all'interno del tessuto produttivo locale né per chi deve venire a investire da fuori e questo devo dire che già nei primi mesi di governo abbiamo a mio avviso fatto un ottimo lavoro. Allora butto subito, mi hai dato un assist, quindi butto subito una domanda io prima di passare la palla al collega Pietro Minardi ed è quella dei De Orse, De Orse lo diciamo per chi non lo dovesse sapere in buona sostanza sono quelle occupazioni dei locali all'esterno dello stesso locale, quei tavolini su strada, chiamiamoli così volgarmente, avete fatto un regolamento completamente nuovo? Sì. Cosa prevede? Cosa sburocratizza? Chi ha tenuto i tavolini fuori in periodo Covid e ha ottenuto i vantaggi che c'erano, fra virgolette, per quel periodo, come si troverà domani mattina? Sì, sul tema dei De Orse abbiamo avuto sin dal mio insediamento un'evoluzione normativa velocissima e soprattutto invadente, perché è intervenuta la legge regionale che è entrata effettivamente in vigore dal 3 ottobre, dopodiché siamo intervenuti facendo che è il regolamento tipo edilizio, che interveniva all'articolo 54 su De Orse cambiando la normativa, in alcune parti tra l'altro andava in contrasto con il regolamento De Orse precedentemente approvato e quindi siamo intervenuti dapprima sul regolamento De Orse e poi i primi di gennaio sull'integrazione al regolamento edilizio, quindi facendo, armonizzando con due provvedimenti in Consiglio Comunale votati all'unanimità con un lavoro record fatto dalle commissioni, dei capi gruppo al Consiglio Comunale che ci ha portato, a mio avviso, ad un regolamento che è venuto incontro all'esigenza delle attività produttive e anche dei residenti. Siamo intervenuti ieri con un'ordinanza che ha armonizzato, c'erano tre ordinanze precedenti, sono state armonizzate e racchiuse all'interno di un'unica ordinanza con le sanzioni che erano previste all'interno del regolamento. Anche qui semplificazioni massime, infatti sia le nuove istanze che i rinnovi tra qualche giorno potranno essere presentati e potrà essere consentita l'installazione contemporaneamente alla presentazione della pratica, cosa che già attiva oggi per le insegne per esempio, sia quelle al di sotto dei 5 metri quadri e quelle superiori ai 5 metri quadri con il pagamento del CUP. Quindi io domani mattina, io ho un'attività, domani mattina voglio mettere un'insegna e un tavolino fuori, presento la pratica e lo faccio? Esatto, esatto, esatto. Questo già vi sembra un risultato. Pietro? Allora, partiamo dalle esigenze proprio dell'attività produttiva citate dall'assessore, diciamo uno dei temi più annosi che riguarda appunto di attività commerciali è quello della delibera famosa attesa da tanto tempo sul limite dei 200 metri quadri di via Roma, che è appunto un'area che si sta piano piano desertificando di attività commerciali. La domanda che rivolga l'assessore è chiaramente come intende muoversi l'amministrazione della Galla in tal senso. Sì, il primissimo atto, uno dei primi atti che abbiamo fatto insieme al collega Carta è stato una delibera di giunta, un atto di indirizzo che prevede appunto di intervenire sulle norme tecniche di attuazione del piano commerciale, modificando infatti l'articolo 5 e superando il limite dei 200 metri quadri, che oltre via Roma riguarda anche le aree limitrofe, però è chiaro che su via Roma per noi oggi è un colpo d'occhio vedere un'arteria così importante della nostra città, del nostro tessuto produttivo, completamente disabitata dal punto di vista commerciale. Abbiamo già fatto con gli uffici un lavoro importante, sono già stati presentati i documenti necessari all'assessorato regionale e territorio ambiente, già mi sono sentito con la dirigente generale, ha ripreso da poco una convalescenza e dalla prossima settimana mi ha già assicurato che sarà operativa perché cambiando le norme tecniche di attuazione del piano commerciale deve essere esaminata la procedura dalla commissione VAS dell'assessorato regionale territorio ambiente, dopodiché la delibera sulla commissione VAS non ci dobbiamo fermare, non ci dobbiamo fermare, quindi volevo rassicurare questo, dopodiché la delibera verrà portata in consiglio comunale, speriamo di avere buone notizie prima della fine dell'estate. Ho citato via Roma perché l'apertura della campagna elettorale di Carolina Varchi, vice sindaco, come vi paremmo, è stata proprio in piazza San Domenico, proprio relativa a quella che era stato il problema delle aziende che appunto o si spostavano fuori dalla ZTL oppure definitivamente chiudevano i battenti. Molti associano questa crisi commerciale proprio all'insediamento della ZTL voluta dalla precedente amministrazione ma sulla quale quella nuova evidentemente non sta facendo dei passi indietro. Lei è d'accordo, sessore? Sulla ZTL c'è un confronto importante con le associazioni di categoria che come dicevo poc'anzi sono fondamentali i corpi intermedi per l'attuazione del nostro programma politico. Non possiamo non solo ascoltarli ma renderli appunto partecipi del processo amministrativo. Quindi su questo dire che c'è un confronto importante per vedere di trovare la quadra dal punto di vista delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali e dei conti del comune che come sappiamo in questo momento particolare non sono particolarmente floridi. però abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo salvato comunque il comune dal dissesto in tempi assolutamente rapidi. Potrebbe esserci una revisione dunque secondo le discussioni in corso in giunta sui margini, sui limiti, sui modi di applicazione della ZTL? Sì assolutamente sì. Ripeto, una revisione soprattutto che è quella relativa a determinati orari che è stata richiesta da alcune categorie e allo studio dei nostri uffici. Parlando di ZTL mi viene subito anche perché si parlava del fatto che si aspettano notizie per la fine dell'estate, andiamo verso l'estate, parlando di ZTL mi è venuto da pensare a quella che è la ZTL di Mondello, che anche quella, già l'anno scorso si era parlato della possibilità di alcune modifiche e poi non si è ancora veramente fatto qualcosa di concreto, ma guardando all'estate state pensando a Mondello e a cosa fare con la pedonalizzazione, con la ZTL, con gli insediamenti commerciali, con la disponibilità degli spazi che ci sono nella borgata marinara che è sicuramente in estate, ma non soltanto è meta di tanti palermitani, ma di tanti turisti. Sì, guardando all'estate, una volta che abbiamo archiviato tutta la parte amministrativa e burocratica dei De Orso, che ci ha assorbito molto tempo, dovendo passare due volte dal Consiglio Comunale, che ringrazio ancora per l'attività, stiamo elaborando il regolamento Movida, che interessa chiaramente anche Mondello e tutta la fascia costiera, infatti vogliamo uniformare e spostare la Movida e rivoluzionarla per come la conosciamo oggi. Infatti abbiamo un problema serio al centro storico, determinati limiti, il divieto di fare in assoluto musica all'esterno sicuramente hanno penalizzato e hanno concentrato la Movida in una zona della città che non è concepita appunto per lo svago dei ragazzi, lo svago turistico. e quindi lo vogliamo riportare a luoghi deputati. Per questo abbiamo prodotto con gli uffici un regolamento Movida con la Commissione e c'è anche un confronto in atto con la Questura per fare appunto un regolamento che vada incontro alle esigenze di tutti gli attori coinvolti, della città, dei residenti e delle categorie produttive. Abbiamo ipotizzato una chiusura prolungata per i locali di pubblico spettacolo, per le discoteche, in modo tale da concentrare fino almeno alle 5 del mattino la vera Movida nei luoghi deputati a questo che sicuramente non può essere né la strada o determinate aree pedonali. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari e la fascia costiera prevediamo anche la possibilità di fare musica all'esterno con degli orari prolungati perché è assolutamente un peccato in una città come la nostra vicino al mare che si affaccia di cosul mare non sfruttarlo soprattutto dal punto di vista turistico. Però c'è un grande tema se parliamo di spiagge, fra virgolette, locali notturni all'aperto. In provincia si tende a chiudere tutta questa attività e Palermo va in controtendenza? Devo dire che in provincia, anche in altre città, mi viene in mente Marina di Ragusa, mi viene in mente Cefalupi, mi viene in mente Cinisi, mi viene in mente Terrasini, comunque il mare lo utilizzano molto. Ci sono diverse attività commerciali, diverse discoteche e comunque di cosa facciano sul mare. Quindi ritengo che Palermo possa avere un regolamento con le dovute accortezze, ripeto, quindi senza ledere il diritto al riposo dei residenti possiamo elaborare un regolamento che vada incontro a questo, spostando la movita e le attrazioni turistiche in luoghi sicuramente più consoni. Ecco, spostare, se posso inserirmi, spostare proprio il termine, secondo me, pertinente alla questione. Cioè, come intendete muovere questa massa di persone che si radunne in centro città verso le borgate marinare? Come convinciamo i ragazzi, insomma? No, fondamentalmente, come si possono muovere tutti questi ragazzi dal centro verso Mondello, visto che comunque di notte, evidentemente, il mondo dei mezzi pubblici in questo momento non garantisce questo grande affluso. C'è un lavoro anche con l'assessore carta di concerto? Sì, c'è un lavoro anche con l'assessore carta con cui ci confrontiamo, appunto per le deleghe che abbiamo che non possono non lavorare in sinergia. Lo spostiamo, ripeto, consentendo intanto di fare la musica all'esterno in determinate aree. Noi nella bozza di regolamento che abbiamo prevediamo la musica all'esterno per le aree, per le attività che hanno almeno 200 metri quadri di spazio esterno, in modo tale che così tagliamo fuori tutte quelle piccole attività, i bar e i ristoranti all'interno del centro storico e comunque ricordiamo che i Deors hanno un limite di 50 metri quadri. Quindi facendo questo già noi poniamo un limite e chiaramente releghiamo l'attività di svago in aree sicuramente più idonee. Per fare questo, così come già abbiamo fatto per i Deors, che ci hanno accusato anche di essere troppo sbilanciati dal lato delle categorie produttive, però devo dire che siamo intervenuti con delle sanzioni più due rispetto a prima e progressive. Quindi noi da un lato abbiamo allargato le maglie, lo faremo anche con il regolamento Movida, però dall'altro stiamo intervenendo con un sistema sanzionatorio concordato anche con la Questura, poi parleremo anche se volete dell'applicazione dell'articolo 10 e il TULPS, con cui inseriamo delle sanzioni progressive che in caso di recidiva che abbiamo esteso a 24 mesi prevedono anche la revoca della licenza o la chiusura fino a 180 giorni. Quindi stiamo intervenendo per garantire la serenità, ripeto, a tutti gli attori coinvolti. Qua si introduce appunto il tema di far applicare questi regolamenti naturalmente, perché dicevamo all'inizio non c'è personale, questo vale anche per i vigili urbani, per la Polizia Municipale, quindi come? L'applicazione che come già avete detto chiaramente ha bisogno di un investimento in risorse che già abbiamo fatto, perché come sapete abbiamo aumentato l'orario dei dipendenti all'interno del Comune di Palermo a 30 ore, puntiamo a portarlo a 34 ore, ci sono in arrivo diverse risorse umane attraverso i fondi del PNRR e ripeto, il fatto di fare delle sanzioni più dure e progressive, ci serve aumentare la recidiva a 24 mesi, va incontro alla carenza del personale che abbiamo, quindi vogliamo scoraggiare al massimo la possibilità di andare contro il regolamento. Se la sanzione è importante, ma nessuno controlla, poi non... Però noi abbiamo previsto un sistema sanzionatorio che è su quattro sanzioni nel corso di due anni, però è da sanzioni durissime che ripeto vanno nella chiusura fino a 180 giorni, se non si ha completamente il titolo per occupare il suolo pubblico, nel caso della Movida che vanno oltre le emissioni consentite, fino all'arrevoca della licenza, quindi devo dire che per questo abbiamo comunque calibrato delle sanzioni che possiamo rispettare, quattro controlli in due anni sono fattibili in un'attività, il problema è che prima c'era sempre la chiusura di cinque giorni a prescindere dalle sanzioni che venivano fatte, oggi invece abbiamo un sistema completamente diverso e devo dire che rispetto anche ai precedenti anni le sanzioni sono state abbastanza corpose, però ripeto, era il meccanismo che era sbagliato, perché comunque noi prevediamo soltanto, arriviamo nel peggiore dei casi alla chiusura dei cinque giorni nel locale, quindi per chi è totalmente abusivo, non è in regolo, comunque è abituato ad andare contro le regole, è diciamo un costo che hanno messo all'interno del loro piano economico, quindi non eravamo più efficaci. Parlavamo di mare, è inevitabile il riferimento al futuro waterfront di Palermo, quindi questi lavori che stanno interessando e interesseranno il porto, negli scorsi mesi c'è stata questa importante approvazione della delibera che ha riguardato il mercato ittico, volevo chiedere l'assessore come immaginava il nuovo porto di Palermo, come se lo aspetta nel prossimo futuro. C'è un'area che si è un po' a metà fra la città e l'autorità portuale che dobbiamo dire sta lavorando con una certa celerità anche. Assolutamente, Palermo si sta riappropriando del proprio mare, della propria posizione, delle proprie peculiarità, c'è un confronto continuo con l'autorità portuale che ringrazio perché sta facendo davvero un lavoro straordinario e con tempi veramente a cui non siamo abituati. Come ricordava Pocanzi, la delibera sul mercato ittico ci consente di riqualificare un punto importante consentendo agli operatori di lavorare in un contesto completamente nuovo e funzionale e al tempo stesso di creare delle aree che possano essere sfruttate anche per altre occasioni. Il mercato ortofrutticolo inoltre sarà, al pari del mercato ittico, sarà completamente ristrutturato, ripensato, sarà presente anche un hub per la ricarica dei veicoli, abbiamo previsto 250 colonie per la ricarica dei veicoli. In quanto ci siano aggiudicati un bando del PNRR verranno investiti oltre 10 milioni di euro all'interno del mercato ortofrutticolo, creando una struttura completamente nuova. E quindi questo sarà un altro volto diverso della città di Palermo. Mi viene da dire un'altra cosa perché abbiamo parlato sin dall'inizio delle difficoltà organizzative del Comune di Palermo dovute alla mancanza di personale, al fatto che, ha detto l'assessore, stiamo lavorando soprattutto sulla sburocratizzazione, è una parola orribile ma che serve a farci capire evidentemente perché ormai è molto utilizzata, ma proprio in queste ore c'è la polemica che è partita dalle parole del sindaco Lagalla sul fatto che ci sono troppi sindacalisti dentro l'amministrazione comunale e non si riesce a fare niente. Lo riscontra, sessore? Sì, con il sindacato abbiamo avuto dei confronti. Il collega Falzone che è la delega al personale è impegnato quotidianamente. Penso che dopo quello che è stato fatto anche da parte dell'amministrazione, comunque si è ripreso anche un dialogo con i dipendenti che prima non c'era. Quindi spero che adesso il confronto vada avanti nell'interesse della città e del funzionamento della macchina comunale. Pietro, abbiamo gli ultimi tre minuti, anzi qualcosa di meno perché poi dobbiamo salutare velocemente. Va bene, vorrei fare una domanda su un tema che la nostra redazione ha seguito con particolare attenzione, ovvero quello della costa sud, collegandolo ad un'autorità di cui abbiamo parlato prima, ovvero l'autorità portuale. Nel progetto di riqualificazione della costa sud, di cui ha parlato anche l'assessore delle carte dalle scorse settimane, ci può essere un inserimento dell'autorità portuale e soprattutto se ci può essere un inserimento di privati, perché nel reportage che abbiamo fatto questo ricorso ai privati, anche per creare delle nuove attività commerciali per riqualificare la zona, è stato più volte rievocato anche dai residenti. Il ricorso ai privati ci deve essere, la costa sud è un'altra parte della città che sicuramente viene interessata anche dal regolamento Movida che mira chiaramente a creare delle attività in quella zona, noi anche dal settore si occupa di fiere e manifestazioni, sta anche lavorando per rendere appunto la costa sud più viva da questo punto di vista e attrattiva. Attraverso l'autorità portuale e i privati sicuramente dobbiamo fare un grandissimo lavoro, il confronto con i privati è fondamentale, oggi le carenze a cui abbiamo accennato diverse volte funzionano e dico del comune ci impongono un dialogo con i privati che non può più essere una battaglia ideologica ma una necessità, ritengo che i corpi intermedi, associazione e i privati siano fondamentali per il rilancio della città perché da soli non ce la facciamo. Fondamentalmente abbiamo parlato un po' di tutto, l'assessore si occupa anche del SUAP, quello che è poi lo sportello, il punto di incontro fra le imprese e il comune di Palermo, cosa si può fare per far sì che non diventi più il nemico? Perché diciamocelo, fino ad oggi il SUAP è stato il nemico dell'impresa. Noi abbiamo ripreso intanto il dialogo con i cittadini aprendo il confronto in presenza perché ancora eravamo abituati al confronto online che non spesso riesce a essere efficace ed esaustivo per l'utenza. Ripeto, sburocratizzando sicuramente andiamo incontro alle esigenze delle attività produttive. Il SUAP non deve essere più soltanto un mero ufficio che rilascia autorizzazioni, ma su questo abbiamo dei confronti con l'associazione di categoria in Vitalia, deve diventare anche un incubatore di imprese, uno sviluppo di idee, di imprese e di risorse. Per questo ritorniamo sempre al confronto con privati e associazioni di categoria. Quindi di fatto deve diventare un momento di incontro e di discussione, non più soltanto un ti sbatto la porta in faccia se non mi porti i documenti, scusi la schiettezza, però è questo quello che si sentono dire le imprese spesso, è il modo in cui lo vivono. Assolutamente, mi sono accorto subito di questa distanza e di un mancato dialogo che c'era tra gli uffici e gli imprenditori, dove chiaramente dovevano assistere a una lentezza burocratica enorme, un confronto con gli uffici che non c'era e a tempi sicuramente che non vanno al passo con le esigenze delle attività produttive. Penso che oggi su questo stiamo definendo anche il portale Infocamere, che è il nuovo portale che utilizzano tantissimi comuni in Italia e che era rimasto fermo nei cassetti. Siamo nella fase conclusiva, i dipendenti hanno già avviato la formazione del back office e questo consentirà un ulteriore approccio completamente rivoluzionato con il tessuto produttivo della città, perché il programma sarà assolutamente nuovo, rivisto, semplificato e permetterà di avere la licenza immediatamente, perché contiamo di allineare contestualmente la banca dati del cassetto tributario di ogni imprenditore attraverso il pagamento dei bollettini pagoppia in modo tale da fare il pagamento contestuale, presentare i documenti di avere immediatamente l'autorizzazione. Il tempo è veramente finito, grazie all'assessore Forzinetti con il quale speriamo di rivederci per poi vedere l'avanzamento di tutte queste cose che speriamo si concretizzino davvero, grazie a Pietro Minardi e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e per rinnovo l'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia, arrivederci. Forzinetti con il quale speriamo di rivederci per poi vedere l'avanzamento per l'avanzamento per l'avanzamento per la